Prof. Bonetti, l'abolizione del reato di clandestinità, sempre che venga confermata, e lo stanziamento di 200 milioni di euro per l'accoglienza dei migranti, possono essere delle soluzioni utili per migliorare la situazione dell'Italia rispetto all'emergenza migranti? Prof. Sono un rimedio transitorio, immediato, ma in realtà uno solo di questi due è stato effettivamente approvato con decreto legge, che è l'aumento dello stanziamento in favore dell'accoglienza dei migranti. L'altro è un progetto di legge futuro incerto, che non sappiamo se e quando sarà approvato e che comunque va a colpire un reato, ad abrogarlo, un reato contravvenzionale che riguarda l'ingresso e il soggiorno irregolare, introdotto nel 2009 che non ha alcuna efficacia, se non quella di costringere l'amministrazione della giustizia a inutili indagini, aprire procedimenti penali, ingolfare l'amministrazione della giustizia per poi concludersi quasi in un nulla, perché è una sanzione di tipo pecuniario, che lo straniero non può pagare e che non dissuade nessuno e che nel caso del diritto d'asilo la legge stessa prevede che colui che fa domanda di diritto d'asilo è non sottoponibile al procedimento perché il procedimento si sospende e se viene riconosciuto lo status di protezione viene archiviato e quindi è del tutto inutile come sistema. Quali sono dunque le motivazioni alla base delle critiche che gli altri paesi europei rivolgono all'Italia? L'Unione Europea ha diverse norme in materia di diritto d'asilo, non è vero che ci sono, ci sono e sono almeno tre, quella sulle procedure di esame delle domande, quella sulle qualifiche di rifugiato e di protezione sussidiaria e quella sull'accoglienza dei richiedenti asilo. Sicuramente l'Italia ha ancora da adeguarsi a queste tre direttive che sono state modificate recentemente, non l'ha ancora fatto e in secondo luogo la cosa più importante come dicevo è uno stanziamento del tutto insufficiente per l'accoglienza degli asilanti, questa è la vera problematica che può spingere persone ad andare altrove e questo viola un principio scritto in un regolamento dell'Unione Europea che ogni persona deve presentare la domanda nel paese dell'Unione di primo arrivo. È chiaro che se uno è invogliato ad andare altrove perché lo Stato non accoglie, l'Italia si mette a violare tutti i principi del trattamento comune. Che cosa quindi dovrebbe fare l'Italia e anche l'Europa per migliorare questa situazione? L'Italia deve anzitutto capire che continua a essere da sempre al centro del Mediterraneo, sembra una banalità ma è ovvio, allora deve prepararsi, prepararsi vuol dire che non può avere 16 mila posti ma deve averne 30-40 mila, deve avere un sistema nazionale di accoglienza degno di questo nome con finanziamenti adeguati che saranno allora il doppio, il triplo, il quadruplo di quelli che ci sono e deve controllare le frontiere anche per evitare che nelle frontiere marittime vi siano questi naufragi assurdi.